Buonasera, bentrovati alle TG Med Sport. Continua la preparazione del Palermo in vista della sfida contro la Juve Stabia. Il posticipo di lunedì sera alle 20.30 allo stadio di Castellammare. Si gioca in sintetico, ecco perché ancora cautela per Andrea Belotti. Ne parleremo dopo anche con questa falsa polemica con l'Under 21. Un Palermo che continua la preparazione lo fa tenendo comunque a bada e sotto controllo Francesco Bolzoni per un affaticamento muscolare. Il centrocampista ha lavorato a parte, per il resto sono tutti disponibili tranne Morganella ancora convalescente dopo le fratture al volto. Ernandez, frattura la costola per lui, è dovuto rinunciare anche alla convocazione nazionale. Ovviamente poi gli assenti, Laffer, Tupicani e Verre che invece con le nazionali ci sono andati. Dunque un Palermo che si gode il primo posto in classifica. Lo fa pensando al testa coda di lunedì quando giocherà anche conoscendo tutti i risultati delle altre squadre. Dicevamo una polemica che in realtà è un caso che non esiste, quello tra il Palermo e la federazione, nello specifico il commissario tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biaggio per la convocazione di Andrea Belotti. Facciamo un piccolo riassunto. Belotti è stato convocato da Di Biaggio per la sfida contro l'Irlanda del Nord. Sabato ha raggiunto Coverciano perché ovviamente non poteva fare altrimenti. ha risposto dunque alla convocazione nazionale, poi lo staff medico azzurro di comune accordo allo staff medico del Palermo ha pensato bene di rispedire Belotti a casa che già martedì mattina era a Palermo per lavorare visto il suo infortunio al tendine della gamba. Una polemica dunque che in realtà non esiste con Di Biaggio che ha tenuto anche a precisare non è esattamente la stessa cosa che è successa a Conte e Prandelli per Chiellini. Ma ascoltiamo proprio il parere di Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport che ci parla di queste dinamiche tra le squadre di club e le nazionali. La semplicità sarebbe la soluzione di tutto e invece noi riusciamo a complicarci sempre la vita con situazioni assurde e astruse. Io non riesco a capire di fronte a una valutazione medica sulle condizioni di Belotti che senso ha farlo andare lì, fargli stringere la mano e farlo ritornare indietro. Mi sembra un eccesso di controllo in un momento in cui invece le società e la federazione dovrebbero collaborare. E' questo quello che non mi quadra, ma in tutte le situazioni. Secondo me un giocatore infortunato è infortunato secondo quello che dicono i medici. Poi se i medici fossero degli imbroglioni è da dimostrarlo. Andiamo sul sito trmweb.it, nella sezione Sport possiamo andare a leggere il notiziario non soltanto del Palermo con chiaramente Bolzoni a parte, assenti i nazionali, ma anche e soprattutto i due notiziari che riguardano il Cagliari e il Catania. In particolar modo per il Cagliari che è il prossimo avversario del Catania. Ci siamo spostati in Serie A. Adrian salterà la sfida del Massimino, una sfida delicata tra l'altro per Lopez. Alla ripresa degli allenamenti assenti tutti i nazionali, a partire da Ibrahimi, Barbo, Piniglia, Ekdal, Del Fabbro e Murru. Dunque tante assenze per la squadra cagliaritana, una settimana un po' particolare con le nazionali. Sul sito anche le dichiarazioni di Caccetta, il centrocampista delle Trapani. Allora queste le dichiarazioni sul sito, noi ascoltiamo le parole proprio di Caccetta. Lasciamo tutto quello che è successo in questa settimana, soprattutto in questa partita a Cesena, e continuiamo a lavorare per come abbiamo sempre fatto. Possiamo ben sperare perché comunque è una squadra che fa circa 7-8 occasioni gol a Cesena. Non c'è nulla da dire, insomma. Una squadra che comunque è un'ottima squadra, non ci ha messo quasi mai sotto per tutta la gara, e quindi fa be' sperare, sì. Purtroppo il risultato non ci premia al 100%, però pazienza, può succedere, possibilmente potrà succedere anche qualche altra volta in campionato, non dobbiamo andare avanti per la nostra strada e non pensare a nient'altro. Io sì, io mi fido al 100%, perché questa squadra ha dimostrato che nel corso del campionato, partita dopo partita, ha avuto dei margini di miglioramento netti. E questa squadra credo che possa ancora stupire, perché comunque è nelle nostre capacità e abbiamo abituato anche Trapani a queste situazioni, quindi io sono fiducioso per il proseguimento del campionato. Credo che quella di Cesena sia stata solo un'occasione. Spero non accada più, perché comunque già la seconda volta francamente suscita abbastanza rabbia. Cambiamo decisamente sport, parliamo di automobilismo, perché è andata a Salvatore Cusumano la vittoria del terzo Panormus Historic, prima targa città di Palermo, organizzata dal veteran car club Panormus con il patrocinio del comune del capoluogo siciliano. Non è riuscito a vincere questa volta il campione siciliano, Giovanni Mosceri, due volte di fila sul podio della Mille Mille, vincitore dell'ultima edizione del Giro di Sicilia 2013. Quasi perfetto in prova il vincitore della manifestazione che ha gareggiato a bordo di una storica utilitaria italiana e versione sportiva, un'auto bianchi A112 delle 1973. Comunque incredibile il risultato di Mosceri che ha gareggiato a bordo di una vettura che non aveva mai guidato prima in vita sua, una Fiat 1100 delle 56 con guida all'inglese messa a disposizione dal presidente del veteran Nino Auccello. Sul terzo gradino del podio un'altra vettura italiana, la più anziana delle tre, una Lancia Ardea delle 1952 guidata da Marcello Desimone accompagnato da Mariangela Concoreggi. La gara ha anche assegnato i punti preziosi ai partecipanti del campionato italiano Asia abituati a gareggiare quasi ogni fine settimana in svariate città italiane. Dall'automobilismo invece passiamo al basket perché c'è ancora un successo per la nuova Aquila Basket che ha battuto ancora il Catanzaro. Sei punti di vantaggio in classifica a cinque giornate dalla fine dei play-off. Dunque primo posto blindato in questa fase d'orologio in vista proprio dei play-off. Il vantaggio di arrivare primi e di poter giocare un'eventuale terza gara di play-off in casa. Dunque avere due possibilità su tre di giocare davanti ai propri tifosi. Tifosi che sono stati tra l'altro determinanti anche nella vittoria contro il Catanzaro. Una vittoria in rimonta straordinaria per gli uomini di Torriero. E allora ascoltiamo le voci dei protagonisti. Sicuramente vincere davanti a questo pubblico è stata un'esperienza fantastica ma vedo che fino alla fine non bisogna mai mollare. La partita finisce al 40esimo e vedo che sicuramente l'avere la panchina lunga di questa squadra è un gran vantaggio. Sicuramente l'assenza di Teo e di Marcello si è sentita però la squadra e la panchina si è avuto a rispondere nel momento di bisogno. Questa vittoria ci fa capire quanto siamo forti noi come gruppo moralmente e fa vedere quanto siamo uniti tutti insieme perché abbiamo fatto una vittoria molto importante anche con l'assenza di Marcello e di Teo siamo riusciti noi e la panchina che aiutiamo quelli che giocano di più a compiere questa vittoria. L'abbiamo meritato e guadagnato in campo e significa che dobbiamo ancora lottare altre partite trasferta e portarci da casa combattendo e lottando come abbiamo dimostrato di fare tutti e dieci oggi in campo. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it spazio dedicato anche al Catania con Biraghi che dice vincere ormai rappresenta un obbligo per il Catania proprio in riferimento alla sfida contro il Cagliari non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi arrivederci Panificio Badalamenti infinite specialità da gustare arancine un euro pizze familiari a soli 5 euro Panificio Badalamenti Panificio rosticceria pizzeria dolci classici moderni Panificio Badalamenti sacca tubana un tennipenti via Francesco Crispi numero 290 a Palermo Infoline 388 9088 192